Questa sera diamo atto all'atto finale del corso fatto sull'educazione finanziaria, svolto in collaborazione, in stretta collaborazione con l'Università di Urbino e quindi con i loro docenti. Quest'anno, stasera, verranno premiati circa 50 imprenditori della Banca di Pesaro che hanno partecipato a questo importante evento. È stato un momento veramente costruttivo dove abbiamo potuto affrontare i principali temi dell'educazione finanziaria, l'atto imprenditori, ma poi con gli ultimi argomenti abbiamo trattato anche l'atto delle imprese, delle famiglie e soprattutto dell'analisi comportamentale fondamentale nella scelta finanziaria sia delle famiglie che delle imprese. Il percorso è stato molto partecipato e si è articolato in otto lezioni su svariati argomenti, dalla fragilità finanziaria e l'impatto della cultura finanziaria sulle performance delle imprese, alle fonti interne e fonti esterne di finanziamento, i bias cognitivi, il marketing e le innovazioni digitali. Questi sono alcuni degli argomenti che sono stati trattati. Questa è la prima edizione di questo percorso ma noi contiamo in successive edizioni. Il corso di formazione organizzato da BCC è risultato veramente interessante perché ha affrontato argomenti anche innovativi e stimolanti per la gestione finanziaria dell'azienda. Ritengo che sia stata un'attività innovativa e molto propositiva nei confronti delle aziende di Pesaro che richiedono questo tipo di intervento. Noi crediamo anche nella formazione, non può che essere così oltre alla ricerca e stiamo portando avanti un discorso sia all'interno dell'Ateneo con gli studenti e le studentesse, il personale sia docente che tecnico-amministrativo di sviluppare delle competenze trasversali. Quindi sono un insieme di competenze che riguardano anche settori diversi nei quali uno si sente specializzato. Tra queste competenze trasversali c'è l'educazione finanziaria, le competenze di natura finanziaria. Tutti noi pensiamo di essere capaci di arrivare a delle decisioni riguardo agli investimenti finanziari o scelte finanziarie più in generale quando invece spesso ci si trova a trovarsi in difficoltà perché magari le nostre scelte prese in modo così basandoci più su informazioni non scientifiche a cui si è arrivati non per esempio con un dialogo con persone formate che sono già presenti all'interno della banca. E anche questo dialogo avviene in maniera molto più proficua se la banca si confronta con imprenditori e famiglie che hanno livelli di competenze finanziarie più elevate. Il corso è stato apprezzato confidiamo in delle nuove possibilità per chi non ha potuto partecipare in questa occasione quindi vogliamo portare la cultura e tutto quello che è il sapere in ambito finanziario a favore della nostra clientela perché una banca del territorio deve anche svolgere questa missione sociale e di informazione.